volevi fare buona pasqua dite buona pasqua che bello non vedo l'ora di fare questo video cosa facciamo Sirius? cosa facciamo? io non sento lì Sirius poverino oh Dio piano piano aiuto Sirius aiuto aiuto oh Dio oggi ho dato la seconda parte di iconografie di conologia l'esame definitivamente chiuso archiviato il numero degli esami mancanti scende finalmente e siamo a quota meno 5 si contano sulle dita di la mano oggi è il giorno in cui sarò per l'ultima volta la mia amica ciao micro bella ciao micrina la mia compagna di viaggi la mia amica è normale attaccarsi così alle alle cose materiali della vita sì perché la mia macchina la mia prima macchina è giunto il momento si è di nuovo qua qua dove? qua cosa mi stai facendo? è un video vuoi dire canne c'è il septum non è vero uffa questo septum no questo è un video Sirius no non farla a pipì davanti a tutti che schifo Sirius ma è tutto sbavucciato la telecamera pronto 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 ovvio che sei dentro sei buio vengo ma di chi sono queste belle scarpette nuove? mie ovviamente ciao allora la giornata di ieri è stata molto impegnativa e Sirius sì Sirius sto parlando di te aiuto Sirius non è stato molto bene e abbiamo passato tutta la giornata a fare dei controlli in giro in cliniche per riuscire ad arrivare in fondo al problema fortunatamente abbiamo capito cosa c'è che non va non dovrebbe essere niente di preoccupante se non fosse che adesso ha la pancia tutta rasata bruttissima e anche malissimo perché Sirius non stava fermo e non si faceva tosare quindi quindi sì non è stata la migliore fra le giornate però sono cose che succedono e basta e vengo e cado quindi si può vedere no è bellissimo ma che bello brava Marti ha provato dopo una mattina a cercare di scattare foto per il blog questa è la situazione Diego sta per entrare da quella porta e sono già che mi sgritte per come gli ho messo la casa ma che casino hai fatto ma cos'è daisy aiutami vado vadi che belle cose bello comunque io sono ripresi in cui brindiamo c'è un tre montorosa bellerio la gioia della campagna devo studiare Kitty devo studiare Kitty cosa stai facendo scusa? tanto paura Diego è dirty dancing vieni a vedere la scena del ballo mamma Diego perché non sei come Patrick Schweitzer? cioè io guardo di là Patrick Schweitzer e mi immagino te così e invece stai dicendo a me i nonni che guardano la mattina sulla seppia che roba e qui la finina come cioè posa finale schiena schiena side così Martellucci vieni qui eccola martin ci sei più tu nel mio vlog di aprile che tutti gli altri è stato è bello è il mio abito vero è bello ma sei coi c'è il mio cellulare ciao e oggi è il 30 aprile e c'è stato un gap in questi giorni perché sono stata a Madrid con Diego e dal 27 e niente quindi ho pensato di fare un piccolo riassunto di questi ultimi giorni di aprile sono arrivati a Madrid iiiiide non mi vedo cosa vi tocca fare metti qui su ho un capello con quadri piedi con sportivo davanti e niente e questo ci porta all'ultimo giorno di aprile l'ultimo giorno di vlog sto ancora pensando se a maggio rifare una cosa di questo tipo in questo momento direi di sì perché alla fine è una cosa che mi sono divertita molto a fare e mentre montavo questo video mi sono resa conto che è anche un bel ricordo da tenere e quindi non lo so sto pensando a come poter realizzare una cosa di questo tipo con cadenza regolare basta e ho finito di parlare se no questo video dura troppo spero che qualcuno l'abbia visto spero che siete rimasti qui fino alla fine nel caso grazie mille e chissà ci vediamo il prossimo mese forse ciao 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 ciao